Dal 16 al 24 giugno, con un'anteprima di Pino Quartana, il 15 giugno, ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario nell'Italia del Sud. Una nuove giorni a cui parteciperanno narratori italiani e stranieri, giornalisti, filosofi, intellettuali e artisti. La festa del Libro di Salerno, che come ogni anno si snoderà tra vicoli, piazze e slaghi del centro storico, quest'anno ha ottenuto il riconoscimento Europe for Culture nell'ambito dell'anno europeo del patrimonio culturale che va ad aggiungersi all'Effelabel, la certificazione europea assegnata alle manifestazioni culturali e artistiche più interessanti del continente. Salerno Letteratura quest'anno arricchisce il suo ampio mosaico di collaborazioni culturali grazie a un prezioso tassello, la partecipazione alla rete dei festival del Sud. Il progetto nasce dall'alleanza tra 25 manifestazioni promosse in questi anni in sei regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con l'obiettivo di fare squadra e valorizzare i territori attraverso la cultura. In quest'ottica si inserisce anche una delle numerose novità di questa edizione. Per la prima volta infatti il festival individua al suo interno un ampio percorso monografico dedicato alla Basilicata in previsione del 2019 in cui Matera sarà la capitale europea della cultura. Spazio a letteratura ma anche a musica, danza, cinema, teatro e cibosofia di impronta lucana grazie alle collaborazioni con il Women Fiction Fest di Matera e con la Notte Bianca del Libro di Potenza.